Un po' per tradizione di famiglia, ma in realtà avevo preso tutta altra strada e poi invece ho lasciato la precedente facoltà e ci ho creduto e ho voluto fare medicina, quindi alla fine è stata proprio cercata e voluta. Un'esperienza familiare e di amicizie che mi ha spinto verso l'ematologia, della quale appunto non mi pento. A livello personale appunto poco, perché noi abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, quindi abbiamo continuato a scendere tutti i giorni da casa. A livello professionale invece ci ha comunque stravolto in tutto e per tutto, sia nella gestione dei pazienti, sia anche nei rapporti interpersonali, perché anche con lo stesso paziente il rapporto è cambiato, è temporaneamente cambiato. Continuare a fare il medico e l'ematologa. In una parola devo dire la caparbietà, in una frase è un po' più difficile forse di guardare sempre a 360 gradi. Grazie a tutti.